ben ritrovati di nuovo su reviewing you oggi vado a recensire insieme a voi queste pinzette forcine rimuovi zecca marcate tic twister acquistate su amazon un prezzo di 4 euro link in descrizione come sempre un prodotto che secondo me è sempre utile portarsi dietro nello zaino quando andate a fare escursioni date nel bosco in campagna ma utile anche per chi ha cani o gatti allora praticamente il prodotto come vedete arriva all'interno di questa confezione di plastica il prodotto è made in france come c'è scritto adatto per animali per l'uomo e come vedete nella parte nel retro della confezione c'è scritto appunto la modalità dell'uso appunto andate a rimuovere la zecca grande con la forcina più grande la zecca piccola con quella più piccola di dipendenza della dimensione poi andate a ferrarla di lato quindi una volta andate a ferrarla di lato girate semplicemente la forcina che ha una forma poi a piedi di porco fino a che la zecca non viene via c'è scritto anche nelle istruzioni in italiano ma anche in diverse lingue e devo dire che un prodotto veramente utile andiamo a vedere insieme il contenuto della confezione il materiale è di una plastica come vedete abbastanza dura non so se metta a fuoco e come vedete c'è la fessura questa è quella piccola e questa è quella grande quindi a dipendenza della dimensione della zecca c'è una misura differente il peso non ve lo dico neanche sarà di qualche gramma non vado neanche a misurarlo e la dimensione come vedete è veramente piccola quindi ci stanno veramente dappertutto e poi come posso dirvi la lo spazio che occupa che occupano è davvero irrisorio quindi vi lascio il link in descrizione se siete interessati anche voi ad acquistare questo prodotto e ci vediamo alla prossima video review